salve amiche e amici c'è vita nell'universo solo un po il sabato sera allora il video di oggi lo dedico a delle domande importanti quindi lasciamo perdere per un attimo il mitico guzzatti siamo soli nell'universo quali sono le possibilità che esista un'altra specie tecnologica come la nostra là fuori e cosa accadrebbe nel caso di un contatto con una specie aliena è stato giusto mandare sonde e segnali nello spazio profondo a queste domande proverò a rispondere facendo riferimento alle teorie più famose e affascinanti se vogliamo che circolano fra appassionati e nella comunità scientifica il motivo per cui ho scelto questo tema oggi in realtà è stato a causa di un commento che ho ricevuto nei giorni scorsi di un utente che non è la prima volta in realtà che mi scrive queste cose non so come spiegarlo ma è uno dei tanti commenti in cui si cita la bibbia o in cui si fanno chiari riferimenti a temi religiosi ora onestamente io non mi occupo di religione davvero non ne so nulla di religione sono un perfetto ignorante pur essendo nato e cresciuto in una famiglia cattolica me ne sono sempre disinteressato quindi certi commenti mi lasciano un po perplesso e proprio non so cosa rispondere però ecco ve lo leggo giusto per capire di cosa stiamo parlando questo signore fra l'altro mi scriveva a proposito di uno dei miei video sul conflitto in ucraina e diceva dovresti comparare questa situazione con una altra realtà che non conosci le navi spaziali della confederazione intergalattica putin è a conoscenza ed in relazione con questa alleanza così come lo sono gli americani come aveva dichiarato all'inizio della guerra se sarà costretto userà le armi nucleari provocando l'intervento della flotta extraterrestre ora ricordo che gli americani avevano disseminato di laboratori per la distruzione di massa e diffusione di armi biologiche l'ucraina che la guerra è voluta dal vecchio ordine mondiale per schiavizzare il mondo intero ma l'uomo potrebbe vivere in seno all'alleanza cosmica questo secondo un calcolo delle probabilità visto dai nostri fratelli cosmici è un fatto reale mentre i principali responsabili della situazione situazione attuale sionisti israelo americani i cultori di satana andranno con la loro anima a vivere con lucifero ok io non ci ho capito niente non ne so nulla di religione quindi mi guardo bene anche dal farlo quindi se qualcuno di voi sa di cosa sta parlando questo signore me lo scriva nei commenti dato poi però che ho capito unica cosa che ho capito è che ha tirato in mezzo alieni e astronavi che secondo lui i governi sanno qualcosa che noi non sappiamo proviamo a vedere come stanno le cose realmente prima di ogni cosa non ci sono elementi per poter dire che civiltà aliene siano entrate in contatto con noi oggi o in passato lasciamo perdere queste teorie da antichi astronauti perché non voglio assolutamente qualche archeologo vero venga sotto casa mia a cercarmi credetemi ne conosco qualcuno e voi non avete idea di quanto un archeologo può diventare matto nel sentire le bagianate per cui antichi egizi per esempio avevano tecnologie aliene o cose di questo tipo non voglio neanche entrare nel merito dei fantomatici governi che ci tengono nascosti incontri con gli alieni cioè lasciamo perdere hollywood per un attimo e ci basta dire che un evento del genere non sarebbe possibile tenerlo segreto e poi qualcuno dovrebbe spiegarmi perché gli alieni sempre contattano per primi gli stati uniti e non tipo il lussemburgo una cosa del genere ma andiamo avanti prima che mi dimentichi mi presento sono enrico e siete i benvenuti nel mio canale vi ricordo che iscrivervi e lasciare un mi piace mi aiuta tantissimo se non l'avete ancora fatto poi se volete sostenermi potete abbonarvi per il costo di un caffè al mese vedete voi qui sotto ci sono tutte le funzioni di youtube per sostenermi comunque sono italiano 46 anni e una delle cose che ho sviluppato fin da bambino è stata la passione per l'aviazione e lo spazio l'astronomia mi ricordo benissimo che quando iniziai ad andare a scuola all'epoca le informazioni che circolavano al tempo erano poche non si studiava più di tanto a scuola questo questo argomento cioè si studiava giusto il sistema solare per quello che sapevamo e qualche accenno alle costellazioni tutto qui oggi le cose sono molto cambiate ad oggi che scrivo questo articolo il 16 luglio 2024 sono stati scoperti 6104 pianeti extrasolari in 4507 sistemi planetari diversi dal nostro e centinaia di altri sono stati classificati e sono candidati in attesa di conferma cioè quelle che fino a poche pochi decenni fa erano delle semplici speculazioni in cui appunto si pensava si riteneva probabile che ogni stella nella nostra galassia avesse i suoi pianeti oggi trova continuamente conferme attraverso vari tipi di osservazioni dirette e indirette e più famose sono certamente il metodo del transito cioè quando il piano orbitale della stella osservata rispetto alla nostra prospettiva ci mostra i pianeti che le passano davanti quindi possiamo osservare una riduzione della sua luce come una piccola eclissi solare per intenderci in base a quei pochi fotoni che riusciamo a catturare da quella stella e grazie all'enorme sensibilità raggiunta con i moderni telescopi riusciamo a capire se il pianeta per esempio ha un'atmosfera con qualche piccola informazione sulla sua composizione chimica oppure c'è anche il metodo della velocità radiale o metodo doppler cioè quando il pianeta nella sua danza gravitazionale con la sua stella la muove un poco la tira avanti e indietro e quindi possiamo vedere una variazione della velocità della stella rispetto a noi e quindi deduciamo che è presente un pianeta con questo metodo siamo riusciti a individuare grossi pianeti esotici come giganti gassosi un po come giove per intenderci anche molto più grandi e fra l'altro orbitare a distanze molto più vicine di quello che ci aspettavamo quindi la scoperta negli ultimi vent'anni di migliaia di pianeti che ruotano attorno alle altre stelle ha confermato le intuizioni degli astronomi dei primi del novecento se poi consideriamo che la nostra galassia ha un numero imprecisato fra i 100 e 400 miliardi di stelle il numero di pianeti potrebbe essere di dozzine di volte più elevato e chissà quanti di questi possono essere abbastanza vicini alla propria stella e delle stesse dimensioni della terra o tali da ospitare le condizioni perché si sia formata la vita se consideriamo appunto la legge dei grandi numeri sarà un numero esorbitante ora mi rendo conto che noi esseri umani facciamo molta fatica a concepire questi grandi numeri così come si non si può capire la magnitudine di 400 miliardi di stelle dopo tutto quindi questi discorsi sono molto complessi chiaramente cercherò un po di semplificarli sappiamo comunque che là fuori ci sono miliardi di possibili candidati che avrebbero potuto ospitare la vita nei 14 miliardi e mezzo di anni di storia dell'universo senza poi contare l'altrettanto enorme numero di lune con oceani per esempio che voglio dire già nel nostro sistema solare ce ne sono più di cinque con oceani anche più grandi di quelli sulla terra e fra l'altro non siamo ancora riusciti a mandarci delle sonde per capire se qualche microorganismo vi si sia sviluppato di sicuro gli studi sulle lune del nostro sistema solare saranno molto interessanti in futuro perché come dire scoprire che si è verificata una seconda genesi potrebbe rivoluzionare anche il nostro modo di ragionare in termini di probabilità che la vita si sia sviluppata anche in altri pianeti voglio dire se nel tuo avvicinato ci sono altre case abitate tutto lascerebbe pensare che nell'intero continente sia pieno di città come minimo no ora sia chiaro voglio precisare che per seconda genesi non lo intendo in senso biblico ma biologico nel senso si intende la genesi della vita protomolecolare con la formazione degli amminoacidi per esempio che sono i mattoncini con cui si costruiscono le proteine le membrane cellulari eccetera eccetera che per la scienza questo fenomeno è avvenuto sulla terra in un momento più di 3,9 miliardi di anni fa ma questa è un'altra storia ci farebbe molto comodo insomma capire se la terra è stata benedetta da un colpo di fortuna unico nella nostra galassia o se queste condizioni sono invece piuttosto comuni il che ci porterebbe a due immediate conclusioni se siamo gli unici perché tutto questo spreco di spazio se invece là fuori ci sono miliardi di altre terre o simili allora dove sono tutti quanti quello di questo parlando se non si è capito è il cosiddetto paradosso di fermi tratto da enrico fermi il fisico particellare di origini italiane noto proprio per la fisica sulle particelle per aver lavorato al famoso progetto manatta in realtà si tratta di una vera e propria calcolo matematico paradosso cioè fu una semplice chiacchierata durante una cena fra colleghi nel 1950 niente di più in cui si parlava cena della probabilità di entrare in contatto con altre forme di vita intelligente extraterrestre questa conversazione a cena nacque dal fatto che questi fisici si misero a commentare un giornale un quotidiano satirico che raccontava di uno schianto di un ufo in nevada e quindi cerchiamo di capire che questi scienziati non avevano ancora i dati di cui disponiamo oggi si limitarono a fare delle previsioni statistiche il paradosso in sostanza si riassume solitamente nel seguente ragionamento dato l'enorme numero di stelle nell'universo osservabile è naturale pensare che la vita possa essersi sviluppata in un grande numero di pianeti e che moltissime civiltà extraterrestri evolute siano apparse durante la vita dell'universo da tale considerazione nasce la domanda se l'universo e la nostra galassia pululano di stelle che a loro volta hanno pianeti potenzialmente abitabili e che avrebbero potuto sviluppare forme di vita complesse dato l'enorme numero di possibilità la galassia dovrebbe essere piena di queste civiltà ma quindi dove sono tutte quante oppure se ci sono così tante civiltà evolute perché non ne abbiamo ancora ricevuto le prove come trasmissioni radio sonde o navi spaziali il paradosso di fermi come detto fu frutto di questa conversazione a cena nel 1950 però undici anni più tardi l'astrofisico frank drake elaborava una vera e propria equazione per cercare di stimare il numero di civiltà extraterrestri che potrebbero essere esistite o so o esistono nella nostra galassia questa equazione prenderà appunto il nome di equazione di drake in realtà l'astrofisico americano in quegli anni stava lavorando insieme alla comunità scientifica per il programma sulla ricerca di intelligenza extraterrestre chiamato seti le domande su come contattare una civiltà extraterrestre attraverso i segnali radio o come riceverne i segnali erano molte all'epoca quando iniziava il programma seti drake decise così di presentarsi all'incontro con i suoi colleghi con qualche informazione statistica cioè letteralmente su dei calcoli sul numero di civiltà che avrebbero potuto contattarci e così presentò la sua equazione che stimava un numero probabilistico di quante civiltà in grado di costruire sistemi di comunicazione via radio potessero esserci là fuori la forma la formula dell'equazione di drake è la seguente ve la mostro dove n è il numero di civiltà extraterrestri presenti oggi nella nostra galassia con le quali si può pensare di stabilire una comunicazione r è il tasso medio con cui si formano nuove stelle nella via lattea fp è la frazione di stelle che possiedono pianeti ne è il numero medio di pianeti per sistema planetario in condizione di ospitare forme di vita fl la frazione di pianeti in cui si è effettivamente sviluppata la vita fi la frazione di pianeti su cui si sono evoluti esseri intelligenti fc è la frazione di civiltà extraterrestri in grado di comunicare e l è la stima della durata di queste civiltà evolute ora questa equazione non fu esente da critiche specialmente perché formulata nel 61 quando avevamo conoscenze molto più limitate rispetto alle osservazioni odierne e naturalmente il problema più impegnativo per la ricerca è quello di determinare il valore dei fattori che figurano nell'equazione cioè ogni singolo valore era sconosciuto esistono considerevoli divergenze appunto sul valore da attribuire a ciascun parametro le quali si traducono in un profondo disaccordo sul valore finale delle possibili civiltà in grado di usare strumenti tecnologici per la comunicazione e con cui comunicare per questo motivo negli anni 60 almeno i valori dell'equazione di drake produssero un valore di circa 10 civiltà evolute in grado di comunicare con noi però ogni variazione dei parametri anche rimanendo nei limiti della verosimiglianza scientifica causava notevoli variazioni di questo risultato portando ad aspre contrapposizioni fra ottimisti e pessimisti i valori di n tipicamente proposti dagli ottimisti per esempio si aggiravano intorno alle 600 mila civiltà in grado di comunicare con noi mentre quelli proposti dai pessimisti erano nell'ordine di uno 0,0000 un numero minimo praticamente quasi unico se invece applichiamo l'equazione di drake ai nuovi dati disponibili oggi dove abbiamo delle stime un po più precisi precise dei singoli valori dell'equazione cioè prendiamo le ultime osservazioni per esempio sul rateo di nascita di nuove stelle nella nostra galassia comparata con le scoperte delle migliaia di esopianeti osservati oltre a fattori aggiuntivi come per esempio il fatto che sappiamo che le civiltà potrebbero aver avuto delle aspettative di sopravvivenza molto basse in quanto una società altamente evoluta tecnologicamente potrebbe autodistruggersi per esempio ma allo stesso tempo avrebbe potuto colonizzare altri pianeti aumentando le sue probabilità di sopravvivenza tutto questo moltiplicato per miliardi di anni di vita dell'universo allora la stima più aggiornata di civiltà che potrebbero aver sviluppato tecnologie di comunicazione con noi nella nostra galassia è un valore di circa 23,1 poi nel corso del tempo l'equazione è stata sottoposta a tantissime revisioni e alla fine è una semplice speculazione probabilistica niente di più cioè l'unico modello di riferimento che abbiamo siamo noi alla fine ora per capire quello che sto dicendo facciamo degli esempi immaginiamo di essere una tribù che vive nell'amazzonia non abbiamo incontrato altre tribù nel corso di tantissimi anni a un certo punto ne incontriamo una molto lontana dalla nostra area quindi diciamo l'aborigeno che cosa dovrebbe credere che esistono miliardi di esseri umani sulla terra che potrebbero esserci miliardi e miliardi di altri individui o centinaia di migliaia di altri gruppi è un po questo discorso quindi noi se analizziamo l'equazione guardando noi stessi è un po difficile avere una stima precisa soprattutto perché la terra è un caso molto particolare più unico che raro per citare asimov uno scrittore di fantascienza secondo le ultime teorie infatti senza l'impatto cosmico fra la terra e il protopianeta chiamato teia avvenuto qualcosa come 4,5 miliardi di anni fa oggi la terra non avrebbe la luna e di conseguenza tutta una serie di fattori mareali degli oceani che avrebbero potuto giocare un ruolo fondamentale nella nascita della vita stessa che si pensa sia nata proprio a causa del lavaggio delle onde sulle coste e così la diffusione di nutrimenti e minerali degli oceani la luna ha stabilizzato gli oceani in questo senso creando delle pozze dei dei processi di lavaggio che appunto dissolvevano minerali e nutrimenti negli oceani inoltre alla luna ha avuto anche un ruolo fondamentale per stabilizzare il clima del nostro pianeta e proteggerla anche da massicci bombardamenti di meteoriti e corpi estranei quindi è vero che senza la luna la vita forse non sarebbe mai esistita sulla terra o magari non si sarebbe mai evoluta come la conosciamo adesso e quindi forse la terra è rarissima con le sue caratteristiche forse è pieno di pianeti rocciosi con atmosfere là fuori ma magari pochissimi hanno un satellite così grande e nelle stesse condizioni che si sono verificate sulla terra il paradosso di fermi e l'equazione di drake poi considerano le civiltà con il nostro metro di giudizio cioè in realtà la terra come sappiamo è strapiena di specie intelligenti in alcuni casi tanto quanto noi che non hanno avuto nessuna pressione o necessità di costruire tecnologie di comunicazione radio eppure queste intelligenze sul nostro pianeta oltre alla nostra hanno dialetti culture linguaggi molto complessi una vita emotiva molto complessa vedessi per esempio orche delfini capodogli scimpanze bonobo elefanti eccetera eccetera la lista è molto lunga fra l'altro noi abbiamo una definizione personale di quello che è l'intelligenza cioè l'intelligenza secondo noi secondo dei principi matematici per cui pensiamo che un essere intelligente debba per forza saper fare calcoli matematici o costruire tecnologie in realtà come ho detto sul pianeta esistono dozzine di specie altrettanto intelligenti che non non hanno mai portato avanti queste attitudini quindi chissà magari la galassia potrebbe essere strapiena di civiltà di animali come noi che vivono sulle superfici dei loro pianeti o negli oceani con civiltà millena millenarie e non hanno mai sentito la necessità di indossare cappelli o costruire delle antenne radio e fra le altre cose se anche che esistesse una civiltà come la nostra ha per esempio 2000 anni luce di distanza ci vedrebbe osservandoci navigare ancora con le triremi e costruire anfiteatri e colossei in pietra quindi nel corso della nostra piccola storia di 300 mila anni di umanità o giù di lì direi 50 mila anni in cui abbiamo l'aspetto che abbiamo adesso siamo bipedi e abili cacciatori raccoglitori solo negli ultimi 150 anni abbiamo iniziato a usare queste tecnologie e i segnali radio il che 150 anni è un periodo di tempo veramente insignificante nella storia della nostra galassia e dell'universo quindi non è detto che in futuro la matematica e la scienza possono essere le uniche vie per stabilire una qualche tipo di comunicazione con eventuali altre intelligenze terrestri o meno e questo non è un elemento da sottovalutare così come valutare l'entità dei viaggi spaziali per come li intendiamo oggi cioè anche utilizzando le tecnologie più esotiche i motori più esotici che possiamo concepire gli spazi sono troppo grandi fra le stelle e potrebbero essere completamente inefficienti e da escludersi a priori comunque le incognite dell'equazione di drake sono tantissime non abbiamo la minima idea di cosa potrebbe esserci la fuori la nostra galassia potrebbe essere una metropoli cosmopolita in stile man in black o guida galattica per autostoppisti oppure uno sconfinato parco giochi esclusivo solo per noi per i nostri capricci ma completamente deserto in entrambi casi questo sarebbe inquietante immaginiamo di non avere la minima idea che possano esserci sistemi di comunicazione che neanche immaginiamo là fuori potrebbero esserci miliardi di civiltà che ignoriamo davanti ai nostri sotto i nostri occhi e se invece la galassia fosse vuota e senza nessuno con cui comunicare come dire no sarebbe uno spreco di spazio è uno scenario anche piuttosto triste comunque esistono tante teorie a riguardo sul fatto che forse là fuori potrebbero esserci o esserci state tantissime civiltà come la nostra magari chissà contattare altri altre civiltà come queste non è neanche una buona idea alla fine almeno c'è chi considera anche questo se soprattutto vediamo i principi con cui normalmente lavora la natura sul nostro pianeta con con questa competizione continua fra le specie e se prendiamo noi sempre come metro di giudizio fra le civiltà umane non è mai successo che una civiltà più avanzata si sia approcciata pacificamente ad un'altra meno evoluta tecnologicamente voglio dire non è che noi umani siamo il male in assoluto tutte le specie si comportano così cioè andatelo a dire alle formiche per esempio che sono in una guerra continua con le colonie vicine così anche i scimpanzè o altre specie sono sempre in competizione fra di loro quindi difficile che vivano in società pacifiche ma prendete quello che dico con le pinze perché questi meccanismi che vediamo sulla terra meccanismi di selezione e sopravvivenza tra le specie spesso sono determinati dalla quantità limitata delle risorse dalla conformazione del territorio ed è in base a questi elementi che una specie tende a prevaricare l'altra o entrare in conflitto con un'altra la stessa cosa fanno le società umane fra di loro per certi aspetti per questo motivo molti astronomi sostengono che l'universo potrebbe essere come una sorta di foresta oscura dove le specie vivono e si evolvono nel proprio territorio senza mai incontrarne altre ma ecco se mai dovesse esserci un incontro anche accidentale potrebbe non finire bene a quel punto se le cose stanno così non ha senso mettersi a strillare se c'è qualcuno là fuori negli ultimi decenni non a caso finita la fase entusiasta in cui si è inviato segnali e sonde come le voyager 1 e le voyager 2 con la ricerca di vita extraterrestre oggi questa ricerca si basa essenzialmente su processi passivi sull'ascolto sull'osservazione nonostante questo le trasmissioni radio continuano anche se meno rispetto a un tempo ma come dire la specie umana è molto molto rumorosa anche per altri aspetti appunto bisogna contare che qualsiasi civiltà aliena o alieno là fuori con un telescopio anche a cento anni luce di distanza vedrebbe la terra illuminata con le nostre città la terra al buio illuminata dalle nostre città delle nostre luci artificiali e poi vedrebbe la composizione avvedenata della nostra atmosfera con tutti i nostri processi industriali la presenza degli allevamenti degli animali insomma non facciamo niente per nasconderci siamo proprio in bella vista e anche però un fatto che la terra è un pianeta stupendo per il nostro punto di vista per noi che ci siamo evoluti per viverci dentro non è detto che possa essere altrettanto interessante per una forma di vita abituata a condizioni molto diverse le osservazioni degli esopianeti stanno facendo comunque enormi passi da gigante la definizione delle immagini migliorerà sempre di più e presto riusciremo per esempio anche a determinare la presenza degli indizi della vita e anche degli indizi che vediamo sul nostro stesso pianeta quindi in futuro potremmo capire se ci sono delle città se ci sono dei gas prodotti da civiltà nelle loro atmosfere comunque siamo ancora molto giovani a questo tipo di studi anche il senso del tempo che percepiamo è legato alla durata della nostra vita possiamo certamente notare un certo progresso tecnologico in cars in corso che fa passi da giganti però non abbiamo la minima idea delle scoperte che ci aspettano che ne so nei prossimi 200 anni sempre se qualche stupido non inizi a lanciare missili nucleari a quel punto probabilmente ci ritroveremo indietro a usare bastoni e pietre e chissà magari adesso la lancio lì chissà che un'invasione aliena non ci metta alla fine tutti d'accordo no in qualche modo per la prima volta nella storia umana in cui dovremo combattere per la salvezza del pianeta staremo a vedere comunque dittatori e fanatici dai capelli cotonati a parte ci sono molte speculazioni sullo sviluppo dell'esplorazione spaziale nei prossimi decenni in cui si profila una sorta di economia cis lunare prima e poi nella fascia dei asteroidi e con tutte le risorse che sono là fuori che sono molte molto ricche ora oggi il problema è su come accaparrarsi queste risorse perché il costo per andare a prenderle è elevatissimo non abbiamo ancora le tecnologie però è un fatto che pianeti lune e asteroidi nel sistema solare sono pieni di queste risorse che estravolgerebbero completamente le nostre produzioni e le nostre economie in questo senso una serie televisiva che mostra questo tipo di evoluzione dei prossimi 200 anni e the expanse e che è la mia preferita in assoluto fra l'altro tratta proprio queste tematiche è tratta da una saga di dieci romanzi anzi proprio si chiama the expanse se volete cercarla è ambientata nel 2350 con il genere umano che ha ormai stabilito delle colonie sulla luna e su marte e così negli asteroidi e le lune maggiori del sistema solare questo perché appunto le risorse presenti su questi oggetti planetari e non sono un enorme fonte di ricchezza tali da stimolare un commercio interplanetario ma le pressioni politiche ed economiche porteranno anche a continue crisi fra la terra marte e la fascia esterna in questo contesto si svolge la serie che avrà degli sviluppi completamente imprevisti in un mix fra thriller e pura fantascienza con un grado di realismo delle scene di spazio e combattimento mai viste fino ad ora in nessuna saga o serie televisiva non esagero nel dire che la serie the expanse è l'unica che è riuscita a riproporre quel realismo scientifico nelle scene che solo stanley kubrick era riuscito a fare con 2001 odissea nello spazio fra l'altro proprio per tornare al tema di questo video e per citare un episodio di questa serie con il segretario generale delle nazioni unite interpretato da una bravissima attrice in una conversazione confidenziale con un suo sottoposto dice letteralmente a proposito della crisi ho un file di 900 pagine di analisi e piani di emergenza per un'eventuale guerra con marte inclusi 14 diversi scenari su cosa fare se si sviluppasse una nuova tecnologia inaspettata ma il mio dossier su cosa fare se una specie aliena avanzata ci contattasse è lungo solo tre pagine e la prima cosa che dice è trova dio e quindi questo è quanto signori un momento fra l'altro vi consiglio qualche film oltre alla serie the expanse che ho citato sicuramente contact con jodie foster film del 1997 tratto dal romanzo di carl sagan è un film molto bello e profondo che racconta appunto del primo contatto con una specie aliena altro film interessante più recente è the arrival anche questo racconta di un primo contatto ma in modo diverso particolare con una specie che con cui sembra impossibile riuscire a comunicare poi vabbè classicone incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977 incredibile vabbè non posso non citare alien anche se appartiene al genere horror è un altro film molto recente che mi è piaciuto abbastanza si chiama anni ara è un film semi sconosciuto di produzione svedese del 2018 e racconta di un prossimo futuro con questa gigantesca gigantesca astronave che dalla terra è in partenza per marte con 8000 persone a bordo l'arrivo sul pianeta rosso è previsto in tre settimane ma qualcosa va storto e finisce in un viaggio interstellare altro film che tratta argomenti simili e di cui ho accennato è probabilmente enders game tratto dall'omonimo romanzo molto bello anche questo è un film con harrison ford che affronta proprio le conseguenze di uno scontro fra civiltà aliene in uno scenario da foresta oscura per quanto riguarda le serie ce ne sono tante ma appunto ovviamente la più significativa è probabilmente star trek che affronta molto spesso queste tematiche ora io non sono un fan così sfegatato di questa non ho una conoscenza così profonda però ho apprezzato molto gli episodi le avventure della voyager con il capitano catherine genuay è una serie dei primi anni 2000 in tantissimi episodi racconta cosa accadrebbe per esempio se fossimo noi gli alieni ad arrivare su altri mondi per un classico tipico di star trek poi più recentemente è uscita star trek picard del 2020 e ripropone certe tematiche classiche però ecco su star trek so benissimo che là fuori ci sono persone un milione volte più preparate di me e niente cari amici per oggi è tutto vi anticipo che fino a metà settembre sarò molto impegnato tra impegni familiari e lavoro è il periodo più stressante e impegnativo per me dell'anno quindi non so se riuscirò a produrre video con la solita frequenza spero di riuscire comunque ad aggiornarvi almeno settimanalmente sul conflitto in ucraina e su altre curiosità quando riuscirò questo è quanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video se avete domande se ne volete altri di contenuti come questi ovviamente come sempre un abbraccio alla prossima